allora buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti all'inizio al primo appuntamento di questo corso di formazione la mia agenda 2030 educazione civica e non solo adesso non vi parlo del corso perché poi abbiamo il direttore del corso il professor carlo petracca che lo illustrerà più in dettaglio ma un momentino volevo soffermarmi su questo titolo perché abbiamo chiamato la mia agenda 2030 agenda 2030 è una grande sfida del del futuro forse del presente se guardiamo l'attualità e quello che sta accadendo proprio in questo momento ci rendiamo conto che una sfida del presente non appartiene a qualcosa d'altro appartiene a tutti a tutti noi la mia agenda 2030 educazione civica e non solo appartiene anche ai bambini perché come ci diciamo spesso in azienda con uno dei nostri slogan nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo e l'abbiamo chiamata la mia agenda 2030 il corso è anche questa cartellina questo contenitore che vedete qui che è una cartella nel nella quale si potranno raccogliere lavoretti e tanti allegati di educazione civica e altro adesso vedremo più in dettaglio che noi quest'anno daremo a tutti i bambini che adotteranno i testi della ls scuola della ricerca gli allegati come dire l'agenda 2030 innanzitutto in generale ha come scopo quello di garantire un presente un futuro migliore al pianeta anche se non ti direbbe ma proprio per questo è necessario ed è una sfida necessaria tra gli obiettivi che dell'agenda appunto esplicita che sono stati sottoscritti da 193 paesi del mondo ce n'è uno in particolare il 4.7 che è molto esplicito e dice entro il 2030 assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso tra l'altro l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stile e stili di vita sostenibili diritti umani l'uguaglianza di genere la promozione di una cultura di pace e di non violenza la cittadinanza globale la valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile quindi la scuola viene chiamata in causa in maniera diretta ed è questa la ragione di questa scelta editoriale che in qualche modo guiderà anche il futuro dei nostri progetti e dei nostri piani livoriali tra gli allegati che noi andremo ad inserire in questa cartella nei testi adozionali si parlerà di filosofia si parlerà di fisica si parlerà di educazione civica di logica di sostenibilità ambientale sociale perché appunto la sensibilità quello che poi il professor petracca definirà meglio nel nel suo posto verso questo discorso non è un qualcosa di già predefinito è un tipo di cultura di sensibilità che ha necessità di essere creata e nessuno più della scuola può fare bene io non non mi dilungo oltre mi taccio semplicemente una comunicazione di servizio per dire che ci si può ancora iscrivere il corso perché le le insegnanti e gli insegnanti che hanno necessità dell'attestato di frequenza possono contattare la nostra mail in modo tale che poi noi potremo certificare la loro presenza inviando un apposito modulo dovremo ricevere indietro firmato e per qualsiasi tipo di informazione potranno chiedere appunto scrivendo alla mail ci si può scrivere sia su sofia ma chi non lo può fare direttamente su sofia per variate ragioni può anche direttamente scrivere alla nostra mail che è commerciale chiocciola educazione al gruppo punto it bene vi ringrazio vi auguro un buon corso perché da qui arriveremo fino a giugno e lascio la parola al professor carlo grazie buonasera a tutte e da tutti perché questo corso beh è stato detto in anticipo che il goal 4.7 e chiama in causa direttamente la scuola ad intervenire sull'agenda 20 30 la scuola si è mossa ci sono già molte pratiche anche incommiabili che vengono svolte e allora per quale motivo abbiamo voluto proporre questo corso quasi con un duplice titolo la mia agenda 20 30 mia e perché è una cartella come ha spiegato il direttore editoriale davide di lodovico è una cartella che va al bambino e il bambino non sente solo parlare di queste problematiche della sostenibilità ambientale sostenibilità sociale sostenibilità economica però a qualcosa di materiale con sé e l'argomento che viene affrontato dalle diverse discipline dai diversi insegnanti acquista si incarna e un apprendimento incarnato nel momento in cui c'è del materiale e nella cartella avete visto ci sono diversi aspetti che vengono trattati non solo noi cittadini ed è un volume che la ls scuola già da due anni ha pubblicato e questi due volumi prima seconda e terza e quarta e quinta vengono anche consegnati nel momento delle adozioni noi cittadini e vengono affrontati i temi della cittadinanza e costituzione cittadinanza e sostenibilità cittadinanza digitale ma ci sono abbiamo voluto inserire anche altri opuscoli tipo l'economia spiegata ai bambini abbiamo voluto inserire la fisica spiegata ai bambini abbiamo voluto inserire anche l'apprendimento come ricerca e anche la filosofia e la logica perché ma io ho avuto modo di seguire delle scuole su sull'educazione civica nelle tre dimensioni cittadinanza e costituzione cittadinanza digitale cittadinanza e sostenibilità però ho dato degli input ma ho visto anche ciò che le scuole hanno realizzato in questo periodo sull'agenda 20 30 e voglio partire dall'analisi di queste prassi quelle che le scuole incomiabilmente stanno sostenendo cosa fa la scuola la scuola la scuola fino adesso diciamo ha intrapreso tre direzioni prima la conoscenza e la comprensione dei problemi illustrati dall'agenda cioè gli insegnanti fanno conoscere fanno comprendere quali sono le problematiche anche i 17 obiettivi ed è questo importante addirittura guardate che la conoscenza e la comprensione sono le prime due fasi della tassonomia di bloom dice la tassonomia di bloom è superata secondo me noi consumiamo non solo i beni materiali ma consumiamo pure i beni immateriali non è superata la tassonomia di bloom la tassonomia di bloom indica le fasi di apprendimento che sono importantissime quindi propedeutico alle problematiche della sostenibilità e senza dubbio devono conoscere devono essere informati ma non solo conoscere comprendere ci significa legare le problematiche tra di loro e questo lo stiamo facendo poi è chiaro che conoscere comprendere però può rimanere a un livello esteriore superficiale del bambino e gli insegnanti si sforzano di far assumere la consapevolezza dell'importanza di questi obiettivi da raggiungere ed è il secondo passo perché uno può conoscere comprendere ma se non è consapevole dell'importanza si trova ancora diciamo lontano dalla terza fase che è quella che noi vogliamo e qual è la terza fase l'assunzione di comportamenti corretti le pratiche che si svolgono nelle scuole fino a questo momento vogliono raggiungere giustamente queste tre tappe l'assunzione di comportamenti corretti che i bambini possono assumere nel loro contesto di vita il rispetto dell'aula il rispetto dell'ambiente il rispetto della piazza il rispetto il rispetto e così via il consumo i cibi l'alimentazione cioè comportamenti che i bambini possono assumere noi li vogliamo promuovere comportamenti sostenibili nel loro ambiente di vita ed è un principio fondamentale perché l'aveva detto già di oggi vuoi educare alla democrazia fai vivere i bambini in un contesto democratico vuoi educare alla sostenibilità io direi facciamo vivere i nostri bambini e i nostri alunni in un contesto sostenibile già gli spazi scolastici e gli spazi fuori della scuola gli spazi di vita del bambino questo è un primo passo importantissimo queste tre fasi tutte e tre però a me è venuta una così un'idea che voglio sottoporre a voi perché questo non è solo un corso di formazione e sono otto incontri due a due al mese e andremo a finire a giugno non vuole essere solo un corso di formazione ma vuole essere anche un corso di ricerca formazione e ricerca perché io penso che queste tre tappe che noi stiamo percorrendo sono importantissime e dobbiamo ancora percorrere però forse dovremmo aggiungere qualcos'altro e pensavo ma questi bambini che noi oggi abbiamo nelle nostre classi nella scuola primaria beh nel 2030 saranno adolescenti giovani qualcuno già avrà raggiunto la maggiore età quindi la scuola non si può limitare a promuovere comportamenti sostenibili oggi definiti storicamente quindi sincronicamente e non sappiamo che cosa sarà la loro vita nel 2030 probabilmente i problemi della sostenibilità nel 2030 avranno connotazioni diverse e questi nostri alunni di oggi che sono i futuri cittadini di domani devono magari sono chiamati a ricercare nuove ipotesi risolutive di queste problematiche e per fare questo devono padroneggiare processi superiori di pensiero e allora mi è venuto in mente che forse oltre alla conoscenza alla comprensione oltre alla consapevolezza dell'importanza oltre all'assunzione di piccoli comportamenti nei contesti di vita mi è venuto in mente che forse dovremmo cercare di sviluppare il loro un pensiero sostenibile un pensiero sostenibile che resiste alla diacronia un pensiero sostenibile che può creare una mentalità sostenibile che questo bimbo nel 2030 magari 18 anni si porta già e questa mentalità questo pensiero sostenibile questa mentalità sostenibile lo aiuteranno a risolvere i problemi del loro del loro tempo a loro secondo me sarà richiesta è vero una cittadinanza solidale giusto fatta di senso della legalità di etico della responsabilità e questo la stiamo curando ma secondo me anche una cittadinanza cognitiva c'è la cittadinanza cognitiva è quella cittadinanza che viene alimentata dalla capacità di pensare sul pensato quello che hanno pensato gli altri di modificare il pensato di innovare il pensato è alimentata dalla capacità critica non acquisire così passivamente quelle che sono diciamo le informazioni che l'epoca storica ti dà la capacità dialettica e la capacità di argomentazione per sostenere determinate ipotesi risolutive un pensiero scientifico quindi un pensiero critico io penso che questo spiraglio mi sia aperto davanti non ancora riesco a nutrirlo con delle pratiche didattiche degli esempi didattici nel corso qualcosa voi avrete qualche spunto però mi piacerebbe anche tanto ci abbiamo ancora quattro mesi marzo aprile maggio tre quattro mesi mi piacerebbe anche delle vostre piccole sperimentazioni perché voglio raccogliere tutte le esperienze anche piccole che ciascuno di voi vorrà realizzare in questo cammino nello sviluppo del pensiero sostenibile vorrei anche raccogliere tutte le diciamo esperienze che voi anche piccole in questo periodo vorrete realizzare e lo metteremo in un deposito in un sito della ls scuola che potete andare a consultare ecco perché se avete visto il corso come è strutturato sono otto incontri tre incontri sono gestiti da me tutta sull'educazione civica le tre dimensioni dell'educazione civica oggi cittadinanza e sostenibilità l'altro incontro cittadinanza digitale e cittadinanza e costituzione però abbiamo inserito anche cittadinanza e economia il prossimo incontro sarà tutto destinato a questa economia e sostenibilità con piero carducci che ha assunto tanta esperienza nel settore e abbiamo due volumi tra ls scuola sull'economia spiegata ai bambini quarta e quinta e del triennio e vogliamo vedere pure non per parlare solo delle problematiche della sostenibilità economica così come descritte dell'agenda 20 30 ma di vedere se possiamo scendere in profondità maggiore per creare quel pensiero sostenibile anche a livello economico abbiamo inserito anche fisica pensiero scientifico e sostenibilità una bella proposta fatta da un insegnante che ha scritto un libro insegnare fisica nella scuola primaria edito dalla carrocci quindi non si tratta di un corso tutto teorico ma un corso in cui i vostri colleghi oreste bronde un insegnante di scuola primaria e che propone delle attività appunto per lo sviluppo del pensiero scientifico e quindi della sostenibilità così pure abbiamo l'apprendimento come ricerca un altro incontro sono due vostre colleghe due insegnanti che hanno anche in carica l'università e proponiamo un esempio di storia un esempio di scienza ma in cui gli alunni vengono invitati a ricercare costruire organizzare le conoscenze e siamo nello sviluppo del pensiero poi in un altro incontro c'è proprio una unità di apprendimento costruita sulla sostenibilità sociale da una vostra collega autrice di libri lisciani e l'ultimo incontro filosofia e sostenibilità sempre costruite da vostri colleghi insegnanti però io ho parlato di pensiero sostenibile e mentalità sostenibile e verrebbe subito una domanda quale legame c'è tra questi due sintacmi pensiero sostenibile e mentalità sostenibile anche per qualche spunto per eventuali io sono convinto che voi riuscirete a tradurre a inventare a ricercare delle esperienze didattiche che possono portare verso questo obiettivo allora noi sappiamo che il pensiero è l'attività della mente un'attività della mente e questa attività è finalizzata alla formazione delle nostre idee dei nostri concetti ma anche della nostra coscienza alla formazione dei nostri desideri dei nostri giudizi praticamente che cos'è il pensiero il pensiero è un processo della mente che ci aiuta ad elaborare la nostra visione del mondo di noi stessi degli altri un processo della mente è chiaro che questo processo se risulta parziale se risulta contenuto se risulta inadeguato è altrettanto la nostra visione del mondo le nostre idee l'insieme dei nostri concetti saranno tali cioè inadeguati e così via il pensare come processo quindi il pensare il pensiero come processo incide sul pensato come prodotto finale noi in effetti questa distinzione nel linguaggio comune non la facciamo noi quando diciamo questo è il mio pensiero non ci riferiamo al processo del pensare all'attività del pensare ma ci riferiamo invece al pensato questo è il mio pensiero insieme delle mie idee e così via allora noi che cosa vogliamo noi vogliamo che il bambino attraverso questa attività che potremo perfezionare eccetera nei confronti della sostenibilità ambientale la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica abbia un pensiero sostenibile cioè delle idee pertinenti e dal pensiero sostenibilità che facciamo adesso secondo quelle tre direzioni non portano ugualmente al pensiero sostenibile c'è un rischio secondo me da quello che ho visto noi oggi possiamo correre un rischio che dobbiamo evitare rimanere schiacciati sull'informazione questo è il rischio e magari sono pure troppo saranno sommersi dalle informazioni con tanti con tanto impegno noi cerchiamo di spiegare a volte con metodo strumenti diversi accattivanti eccetera spieghiamo le problematiche della sostenibilità illustriamo nei dettagli le conseguenze dei comportamenti sbagliati dell'uomo a livello ambientale sociale ed economico indichiamo i comportamenti corretti che dovrebbero essere assunti purtroppo che succede non sempre non sempre attraverso queste tre fasi il bambino assume comportamenti corretti richiesti dai genitori dagli insegnanti delle istituzioni succede pure a noi adulti magari abbiamo le informazioni abbiamo compreso ma poi i comportamenti restano inadeguati e quindi insostenibili quindi questo succede però quando succede e ci ritorno quando la visione del mondo viene data quando la problematica viene illustrata viene esaminata e le ipotesi risolutive vengono consegnate in un modo compiuto definite e definitive questo non è possibile allora la prima cosa per formare il pensiero sostenibile sono due principi metodologici da utilizzare quando portiamo avanti queste problematiche due principi metodologici uno lo diciamo desundo da l'idea di Umberto Eco lector in fabula cioè quando Umberto Eco sostiene che quando noi leggiamo un testo il lettore per comprendere il testo per farlo suo affinché sia significativo questo testo il lettore deve entrare nel testo e ci deve portare delle informazioni sue per completarlo il testo troppo esaustivo e demotivante e allora che cosa significa a livello metodologico facciamo in modo che di fronte alle problematiche il bambino assuma una dimensione attiva di decostruzione dei problemi di scomposizione dei problemi e di ricomposizione delle delle idee delle soluzioni questo porta indubbiamente a un pensiero sostenibile quindi il lector in fabula che sia il bambino che siano i bambini messi in gruppi eccetera a decostruire ricostruire destrutturare ristrutturare e poi dicevo il secondo principio è l'informatività della linguistica testuale cioè chi di voi ha fatto studi sulla linguistica da adesso sur il circolo linguistico di praga la scuola di copenhagen chomsky arriviamo alla linguistica testuale la linguistica testuale ci dice guardate che l'unità minima della lingua è il testo non è la parola non è la sillema non è il fonema l'unità minima della lingua è il testo testo possono essere i promessi sposi possono essere capitoli dei promessi sposi può essere una fauna può essere un racconto testo può essere buongiorno testo può essere ciao è testo tutto ciò che invia un messaggio compiuto non è la lunghezza dell'apparato appunto linguistico però uno dei principi della linguistica testuale è l'informatività adeguata c'è un testo per essere testo deve avere questo principio deve rispondere all'informatività che significa l'informatività se il testo è pieno di informazioni non è testo non risponde ai principi della linguistica testuale è lo stesso lo stesso principio del lector in fabula cioè sei tu che devi portare qualcosa dentro al testo per completare il messaggio e allora il messaggio che ricavi non ti viene dato è stato costruito ti resta impresso di più lo fai tu e diventa consapevolezza allora questi sono due principi ma io non vi voglio dire che se vogliamo fare alcune esperienze e avrete degli spunti dagli altri incontri sulla fisica sull'economia sulla filosofia sull'apprendimento come ricerca degli spunti ci saranno però già partire con questi due principi metodologici quando affrontiamo le problematiche appunto dell'agenda 2030 già ci aiuta a sollecitare e sviluppare il pensiero sostenibile ma non basta per andare avanti dovremmo cercare di sviluppare le diverse forme di pensiero per esempio già nella scuola primaria a me piacerebbe moltissimo vedere in che modo quando parliamo di questi argomenti possiamo attivare la dialettica tra il pensiero concreto e il pensiero astratto dei bambini beh il pensiero concreto si concentra su ciò che è fisicamente intorno a noi quindi i bambini imparano a comprendere il mondo come pensatore concreto gli oggetti gli eventi le persone le persone che hanno davanti perché loro sono concentrati sul qui ed ora e è chiaro i bambini in un primo momento pensano attraverso la permanenza dell'oggetto la permanenza della persona la permanenza dell'evento successivamente si staccano dalla permanenza quando riescono a pensare all'oggetto all'elento alla persona in assenza in absenza e allora c'è la rappresentazione mentale però il primo passo è il pensiero concreto i bambini soprattutto i bambini del triennio primo secondo e terzo allora attraverso questo pensiero concreto che significa portare subito il pensiero concreto nelle problematiche della sostenibilità contestualizzare sempre le problematiche cioè far vedere ambienti inguinati strade sporche contesti di povertà contestualizzare il pensiero concreto quando possiamo tutte le problematiche che abbiano appunto una contestualizzazione territoriale spaziale antropologica tutte le contestualizzazioni possibili però dal pensiero concreto sì Piaget ha detto che il pensiero astratto si alza agli undici anni abbiamo scoperto che non è così il pensiero astratto si sviluppa anche durante l'infanzia ad esempio quando i bambini imparano a conoscere e riconoscere le emozioni delle persone già si stanno avvicinando al pensiero astratto cioè se vedono una persona piangere il pianto è concreto ma quando riescono ad immaginare il dolore della persona e la sofferenza della persona che sta oltre il pianto beh si avviano verso il pensiero astratto quindi conoscere e riconoscere le emozioni già è l'avvio del pensiero astratto e allora questo che ci può dire? il pensiero sostenibile non nasce solo attraverso le informazioni il pensiero sostenibile nasce anche attraverso le emozioni e questo ci appartiene se affrontiamo il problema della fame e della guerra è attuale il problema della guerra noi non dobbiamo solo informare è attuale dobbiamo far conoscere i sentimenti che le persone vivono in tale situazione i sentimenti permettetemi questa piccola divagazione e parentesi sono stato invitato a incontrare alunni di quarta elementare e a fare una riflessione sulla guerra io ho preferito far vivere le emozioni sulla guerra non quella attuale e allora sono partito da ciò che le persone hanno vissuto nella guerra precedente mi trovavo un libro tra le mani frutto di una ricerca che studenti della scuola superiore di Sulmona avevano realizzato ricercando le testimonianze che cosa era successo dopo l'armistizio dell'8 settembre quando i prigionieri inglesi che stavano in un campo di concentramento a Sulmona e appunto scapparono dai campi di concentramento e cercavano di raggiungere le forze all'epidio nel sud Italia erano malnutriti, malvestiti, affamati non avevano nulla e come si sono comportate le popolazioni locali di fronte a queste persone che in quel momento vivevano una situazione di difficoltà e di sofferenza questo libro ha un titolo importantissimo e il libro ha fatto comprendere le emozioni non gli avvenimenti e si divisero il pane che non c'era e si divisero il pane che non c'era quando i bambini di quarto hanno capito che cosa significa questo libro e le testimonianze che riportavano e ha letto a loro un racconto questo racconto praticamente descriveva in una campagna un prigioniero inglese malvestito malnutrito che camminava e camminava senti e allora una famiglia l'ha accolto e l'hanno invitato a mangiare hanno diviso la pagnotta di pane in tanti pezzi quanto erano i componenti della famiglia ma questo prigioniero inglese non mangiava il suo pezzo allora la mamma di famiglia ha detto ma mangia mangia come stiamo facendo noi lui si è alzato ha messo il pezzo di pano sotto il braccio tipo questo panino sotto il braccio ha detto non lo mangio perché due miei compagni che non mangiano da due giorni sono in un rifugio io adesso vado da loro e mangeremo un pezzetto ciascuno allora forse tutta questa esperienza ve la potevo risparmiare ma mi serviva per far capire che non possiamo affrontare le problematiche della sostenibilità e dell'agenda 2030 esclusivamente con le informazioni con l'illustrazione dei comportamenti sbagliati e con la richiesta dei comportamenti attesi bisogna anche insistere molto sui sentimenti sulle emozioni e qui potrei citare persino Aristotele l'apprendimento diceva Aristotele contiene due nostre dimensioni un mazein un apprendimento puro manzano un conoscere e un pazzein c'è una compartecipazione quindi ci vuole ci vuole in queste problematiche anche il mondo emotivo il mondo affettivo l'intelligenza emotivo di Goleman ci può aiutare questo è l'altro spunto non dobbiamo noi limitarci alle informazioni e alla richiesta di ma far vivere la dialettica tra il pensiero con pensiero astratto e soprattutto far vivere le emozioni guardate il pensiero astratto non solo con le emozioni i bambini man mano che crescono per esempio dalla lettura cominciano a capire le metafore la metafora già sviluppa il pensiero astratto ecco perché io dico quanto troviamo e poi alla fine di questo incontro vi parlerò di un libro un libricino della LS scuola racconti per salvare il pianeta che potete anche prendere beh la narrazione la narrazione porta al linguaggio metaforico e il linguaggio metaforico è molto potente per la comprensione e l'interiorizzazione di ciò che noi vogliamo trasmettere va bene oltre a questo questi sono dei primi principi che secondo me dobbiamo vedere se troviamo dello spazio e delle attività per far crescere queste modalità appunto con cui affrontare le problematiche della sostenibilità nei prossimi incontri spero anche di dire qualcosa in più abbiamo bisogno per esempio di attivare un pensiero analitico saper scomporre queste problematiche in tante parti e legare le parti al tutto un pensiero critico per fare in modo di non accogliere così passivamente quelli che sono i pensieri degli altri il pensiero dialogico argomentativo il pensiero creativo e così via e ripeto quegli incontri che sono dedicati ad economia a filosofia a fisica all'apprendimento come ricerca servono anche per sollecitare appunto questa seconda strada che vuole più una sostenibilità cognitiva che non solo una sostenibilità di tipo comportamentale questa era la premessa per giustificare non solo il corso e gli altri incontri che voi appunto abbiamo inserito in questo corso che è anche un'attività di ricerca però i otto incontri vogliamo anche consolidare le pratiche esistenti e che sono delle pratiche ben fatte c'è la conoscenza e la comprensione dei problemi la consapevolezza dell'importanza di questi obiettivi e l'assunzione di comportamenti contestuali adeguati al contesto dei bambini e io adesso quindi come se fossero due itinerari consolidare ciò che abbiamo fatto fino adesso e vedere se possiamo imboccare ed aprire un'altra strada come attività di ricerca io per consolidare parto da cittadinanza e sostenibilità allora noi sappiamo come nasce questo discorso dell'agenda 2030 vi lascio la slide le Nazioni Unite nel 2015 l'agenda globale per lo sviluppo sostenibile questo è il primo accordo globale che definisce un'azione appunto globale e tutti i paesi sono chiamati a contribuire l'Europa ha recepito questo documento dell'ONU nel 2016 con questo documento della Commissione il futuro sostenibile dell'Europa prossime tappe l'azione europea a favore della sostenibilità l'Italia ha elaborato la strategia nazionale di sviluppo sostenibile e diciamo che questi sono dei documenti che devono stare anche nel vostro curriculum d'istituto come riferimento ma anche per le vostre azioni e il goal 7 lo dice in un modo esplicito quello che è stato uscito da Davide di Rodovico garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscono la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile qui potremmo stare su quella prima fase anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile sviluppo e stile di vita e secondo me per avere uno stile di vita sostenibile occorre un pensiero sostenibile e una mentalità sostenibile allora oltre all'agenda 2030 beh che ci dobbiamo interessare di sostenibilità ci viene detto pure dalla legge 92 la legge che ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione fisica in effetti questa legge non è che dedichi un articolo particolare come ha fatto per la Costituzione come ha fatto per la cittadinanza digitale alla sostenibilità nell'articolo 3 della legge 92 possiamo trovare degli spunti no degli spunti degli espliciti inviti nella lettera B e G dice che noi ci dobbiamo interessare nel momento in cui portiamo avanti l'educazione civica e perciò quella cartella ha il titolo di la mia agenda 2030 educazione civica e non solo quindi dice che noi dobbiamo affrontare portando avanti l'educazione civica l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l'educazione ambientale lo sviluppo ecosostenibile la tutela del patrimonio ambientale e così via e l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei beni pubblici comuni quindi ci abbiamo un invito specifico nel momento in cui facciamo educazione civica la sostenibilità la dobbiamo introdurre non solo ma adesso recentemente come sapete è stata approvata la proposta di legge costituzionale l'8 febbraio 2022 dal Parlamento e la modifica dell'articolo 9 e dell'articolo 41 fa questa modifica fa che la sostenibilità diventa una richiesta costituzionale io non ti sto a dire l'articolo 9 già esisteva la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio il patrimonio storico e artistico della nazione ecco l'aggiunta tutela l'ambiente la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali quindi c'è un ampliamento della sostenibilità ambientale ma anche della sostenibilità economica guardate l'articolo 41 l'iniziativa economica privata è libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana e hanno aggiunto alla salute e all'ambiente quindi l'iniziativa economica è libera ma non può svolgersi se dedica danno a tutti questi aspetti alla salute e all'ambiente e così via allora abbiamo se è diventata adesso di rango costituzionale e dobbiamo sicuramente dare dobbiamo spendere il nostro impegno i nostri sforzi per portare avanti questo aspetto partiamo dalla definizione la definizione in un curriculum d'istituto ci deve essere e la più bella definizione è quella che è stata data dalla Commissione Mondiale per l'ambiente e lo sviluppo della Nazione Unita cosa dicono? per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri quindi è l'equilibrio tra i bisogni della generazione presente e i bisogni delle generazioni future questo è il concetto che deve essere univoco all'interno di un istituto allora viene subito da porsi questo problema ma che rapporto c'è tra cittadinanza e sostenibilità beh il termine cittadinanza cosa indica? indica la relazione tra un individuo e uno stato cittadinanza quindi l'insieme dei diritti e dei doveri che questa relazione comporta quando c'è un esercizio armonico dei diritti e dei doveri allora noi possiamo vivere una buona cittadinanza un esercizio armonico dei diritti e dei doveri che c'entra la sostenibilità questo esercizio dei diritti e dei doveri non è decontestualizzato ma avviene in un contesto reale e questo contesto l'esercizio dei nostri diritti e dei nostri doveri e questo contesto reale contempla tre spazi lo spazio geografico territoriale ecco perché sostenibilità ambientale lo spazio sociale ed ecco perché sostenibilità sociale e lo spazio economico quindi c'è un rapporto tra cittadinanza e sostenibilità se questi tre spazi hanno condizioni che permettono all'uomo di soddisfare i suoi bisogni e l'esercizio dei diritti e dei doveri in modo armonico se hanno queste condizioni c'è cittadinanza ma se questi tre spazi non hanno queste condizioni la cittadinanza appunto viene ridotta addirittura annullata quindi l'esercizio della cittadinanza richiede la sostenibilità dei tre spazi possiamo dire che la sostenibilità è la condizio sine qua non della cittadinanza questo dobbiamo assumere noi insegnanti per portare avanti questo discorso e farlo percepire anche ai nostri bimbi a seconda dell'età è importantissimo questo concetto ad esempio in una scuola secondaria ma potremmo vedere anche come poterlo trasmettere ai bambini della primaria andiamo adesso alle ai tre tipi di sostenibilità la sostenibilità ambientale sulla sostenibilità ambientale secondo me la scuola ha una bella tradizione noi abbiamo fatto sempre i progetti sull'ambiente e così via come i progetti sulla legalità si tratta di questa tradizione di riprenderla di sfoltirla di renderla più adeguata al nostro tempo però la sostenibilità ambientale ecco dovremmo far vedere anche questo passaggio questa dimensione diacronica come l'uomo e l'ambiente questo un bambino di scuola primaria ci arriva e anche il suo terreno di studio in quel momento far comprendere che questo rapporto uomo-ambiente ha avuto un'evoluzione ha conosciuto delle fasi beh in primo momento l'adattamento e questo il bambino lo comprende l'uomo fin dall'origine si è dovuto adattare all'ambiente quasi in senso remissivo si è adattato all'ambiente la caccia la vita nelle caverne eccetera successivamente mentre c'è stato l'integrazione c'è l'uomo comincia a utilizzare le risorse dell'ambiente per migliorare la propria vita immaginate l'agricoltura i fenici non si sono ostinati ad essere agricoltori ma hanno utilizzato l'ambiente per costruire la loro civiltà di navigatori gli egiziani dice no noi non facciamo i navigatori ma con la fertilità del Nilo sono stati abili agricoltori e così via popoli che vivono in riva al mare di nonno sono pescatori quindi far vedere come dall'adattamento si è passato a uno scambio a una integrazione ma far vedere pure come dall'integrazione siamo passati all'opposizione c'è l'attività dell'uomo che è finalizzata a dominare l'ambiente l'opposizione si oppone all'ambiente magari anche per soddisfare falsi bisogni la villetta in una scogliera in riva al mare e così via per arrivare a dire guardate che oggi stiamo anche percorrendo la via della distruzione c'è l'uomo che distrugge l'ambiente e quindi diventa insostenibile e dobbiamo essere consapevoli che se non si pone rimedio a questa distruzione e vedere come trasmettere questa consapevolezza la qualità della vita futura sulla terra di questi bambini di questi giovani viene a mancare quindi ci può essere per noi una regressione filogenetica di tutta la specie e una regressione ontogenetica cioè dell'uomo e chi lo dice questo? Solo Greta? Dice a cui qualcuno non attribuisce scientificità guardate c'è un'altra cosa che forse non conosciamo e dobbiamo vedere come all'interno della comunità educante far esplodere questo concetto il concetto del deficit ecologico dice noi viviamo in un deficit ecologico che cos'è il deficit ecologico? La rete globale dell'orma ecologico ogni anno prevede il giorno in cui l'umanità entra nel deficit ecologico che cos'è? Quando l'umanità consuma più energie di quanto la terra sia in grado di produrre cioè noi consumiamo consumiamo le risorse della terra ebbene il giorno in cui si genere il deficit in cui l'umanità consuma più di quanto la terra sia in grado di darci sembra che corrisponde ad agosto quindi a metà dell'anno cioè noi stiamo a consumare più di quanto la terra ci possa dare e il deficit ecologico per alcuni è più grave del deficit di bilancio per alcuni compreso me il deficit ecologico è più grave del deficit di bilancio come pure anche questo rapporto il rapporto che viene elaborato questo è l'ultimo del 2019 questo rapporto ha messo in risalto cinque gravi rischi che gli uomini possono vivere nel futuro crescita del reddito e disparità di ricchezza cambiamenti climatici aumento della popolazione incremento della cyber dipendenza invecchiamento della popolazione e si collegano tutti quindi hanno valore scientifico e si collegano tutti ai problemi dell'agenda 2030 soprattutto questi primi due rischi però questo studioso Fernando Reimers che ha dedicato molto alla sostenibilità lui dice guardate che c'è uno scollamento fra l'evidenza scientifica ecco tipo questi due documenti un'evidenza scientifica che documenta il riscaldamento globale e dall'altra parte la consapevolezza uno scollamento una discrasia da una parte c'è la scienza che ci dà delle informazioni e ci trasmette delle preoccupazioni dall'altra parte la consapevolezza dell'uomo l'atteggiamento e i comportamenti delle persone cioè c'è una distanza cioè le persone dichiarano dichiarano la preoccupazione ma difficilmente si assumono i comportamenti adeguati appunto che dovrebbero derivare da questa consapevolezza noi possiamo accettare questo che ci sia cioè rimanere schiacciati sul presente ignorare questi rischi pur conoscendoli e non cambiare i nostri comportamenti certamente no come educatori in modo particolare ma anche se non abbiamo noi potere politico potere economico potere sociale noi come educatori non possiamo non possiamo ammettere accettare questa discrasia questo scollamento tra l'evidenza scientifica e il comportamento umano perché perché nel momento in cui noi lasciamo correre questi rischi veniamo a negare il diritto delle generazioni future ma hanno diritto al futuro se il grido il grido di Greta adesso ci state rubando il futuro hanno diritto al futuro il diritto al futuro significa una cosa solo il diritto a vivere nel loro nel futuro che sarà il loro tempo presente se noi neghiamo il diritto al futuro è come se negassimo il diritto alla vita e questa è una cosa importante soprattutto per le azioni educative ma anche per il coinvolgimento dei genitori questo concetto è stato ben illustrato dal Papa da Papa Francesco in Laudato Si io vi leggo questo passo che è molto bello ormai non si può parlare di sostenibilità senza una solidarietà fra le generazioni forse non ci pensiamo alla solidarietà fra le generazioni cioè la solidarietà magari la viviamo nel presente però che io debba essere solidale con le persone che vivranno fra vent'anni forse è un pensiero un po' lontano da noi quindi ormai non si può parlare di sostenibilità senza una solidarietà fra le generazioni quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni entriamo in un'altra logica quello del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo un dono gratuito noi abbiamo ricevuto la terra gratuitamente un dono non l'abbiamo costruito ci è stato donato se la terra ci è donata non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale non stiamo parlando di atteggiamento opzionale bensì di una questione essenziale di giustizia dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno giustizia l'ambiente si situa nella logica del ricevere è un prestito ma se è un prestito io lo devo ridare lo devo riconsegnare e da trasmettere alla generazione successiva questo passo ci fa capire una cosa importantissima che la sostenibilità deve essere intesa come solidarietà fra le generazioni guardate da una parte è lontano il concetto ma è anche bello di dire io sto offrendo sto donando qualcosa alle generazioni future magari questo concetto lo facciamo quando vogliamo lasciare delle tracce che ci inorgogliscono della nostra presenza su questa terra invece sto facendo un dono alle generazioni future non per la mia vana gloria ma per essere solidali con quella generazione e quindi il concetto di sostenibilità porta anche il concetto di giustizia generazionale noi parliamo di giustizia giustizia nel presente tra le persone istituzioni eccetera ma c'è una giustizia generazionale se non riconsegniamo questo bene che abbiamo avuto in dono noi creiamo ingiustizia che male avranno fatto questi che verranno dopo di noi per non avere un ambiente che possa permettere a loro di vivere bene che c'entra la scuola oramai non serve con questa slide questa slide è inutile quante volte però voglio far vedere questo aspetto quante volte noi parliamo di bisogni 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 dei nostri alunni e ci riferiamo ai bisogni di oggi che i nostri alunni vivono nella nostra classe nella nostra aula in quel presente però a me piace questo concetto voi sicuramente l'avete sentito quando parlo di competenze dell'approccio didattico per competenze a me piace questo concetto di bisogno che è stato elaborato da Bradshaw e lui dice che esiste un bisogno che può essere definito come anticipazione di future necessità dobbiamo anticipare le future necessità di questi ragazzi e perciò siamo chiamati ad intervenire e a lasciare a intervenire anche per portare avanti il discorso della sostenibilità così via anche Gianni Maria Bertin ha detto che la scuola e la società deve avere un'aderenza reattiva se noi adesso registriamo comportamenti insostenibili dobbiamo aderire e reagire a questi comportamenti insostenibili ma anche Nate Postman ecologia dei medi e la scuola come contropotere la funzione termostatica della scuola tu scuola se trovi un ambiente troppo freddo lo devi riscaldare se trovi un ambiente troppo caldo lo devi raffreddare quindi l'impegno sulla sostenibilità ha anche diverse radici e mi fermo qui per questa prima parte e poi andiamo avanti anche per vedere la possibilità di qualche spunto più pratico sulla sostenibilità ambientale sulla sostenibilità sociale e sulla sostenibilità economica tenevo soprattutto a illustrarvi questa idea questo sprazzo questo spiraglio che forse dobbiamo fare qualcosa per lo sviluppo del pensiero sostenibile e della mentalità sostenibile e vediamo se ci riusciamo insieme a percorrere questa via che si integra con la via dell'informazione con la via dell'assunzione di comportamenti concreti se ci sono state delle domande io non le vedo se ci sono e ci sono state delle domande rispondo volentieri e ci sono state che ci sono state se non ci sono domande possiamo fare sette minuti di pausa per un caffè per chi è a casa e riprendiamo subito dopo grazie 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 la possibilità cioè che la mia voce pervenisse a voi allora vi dicevo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale gli obiettivi ci indicano tre grosse vie da dover percorrere l'educazione del pensiero e vi dicevo mi fa piacere che sia citato questo pensiero anche se non nella modalità con cui io in premessa ho voluto illustrarlo a voi cioè cosa dice noi dobbiamo promuovere l'educazione del pensiero cioè l'educazione alla comprensione profonda dei problemi ambientali e delle modalità degli strumenti dei percorsi con cui risolvere questi problemi qui si parla di educazione profonda di comprensione profonda però a mio modo di venire c'è una comprensione profonda quando il processo di comprensione ha avuto determinate caratteristiche e determinate modalità di svolgimento noi non possiamo consegnare pensieri compiuti come immaginando che i nostri alunni siano delle fotocopie che possono assumere questi pensieri compiuti e impossessarsene e poi comportarsi in sintonia con quelli che sono stati i pensieri che noi abbiamo consegnato beh il secondo obiettivo educatore al sentire beh c'è un legame con l'importanza delle emozioni e dei sentimenti in cui di cui vi ho parlato e l'emozione e i sentimenti avviano verso il pensiero astratto c'è l'educazione al sentire in quanto per intervenire sull'ambiente è necessario stabilire un legame con l'ambiente anche da un punto di vista emotivo e affettivo e quindi Aristotele il mazein e il pazzein le intelligenze emotive di Goleman e così via educazione all'agire perché l'educazione per dirsi tale necessita di una ricaduta concreta e diretta cioè vogliamo che alla fine ci siano dei comportamenti che i bambini possono assumere nei loro micro contesti di vita però queste quindi allora la sostenibilità cosa ci richiede? l'istruzione la conoscenza e la comprensione di queste problematiche però ci richiede la logica dell'alleanza e della cura se no i sentimenti e le emozioni non vengono fuori e quindi l'alleanza e della cura la cura dell'ambiente l'ambiente di vita l'ambiente del giardino della scuola la piantina che fate l'alleanza e la cura e i comportamenti contestuali del vivere di ogni giorno dentro l'aula, nella scuola e così via e questo ci può portare poi dal micro al macro come vi ho già anticipato però queste linee guida dell'istruzione ambientale per quanto del 2014 propongono otto percorsi didattici che secondo me sono validi se non li conoscete cioè li potete acquisire questi percorsi didattici o rivederli per esempio tutela delle acque e del mare infanzia e primaria tutela della biodiversità florofaun infanzia e primaria alimentazione sostenibile c'è per tutto infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado gestione dei rifiuti infanzia e primaria e secondaria di primo grado tutela della biodiversità più per la secondaria e così via green economy la città sostenibile adattamento ai cambiamenti climatici sono otto percorsi che ci possono essere utili perché ci possono essere utili perché sono strutturati in questo modo ciascun percorso è strutturato in due parti la prima parte consiste nella presentazione teorica della tematica trattata tipo l'acqua la tutela delle acque e del mare la prima parte illustra questa problematica vista anche in correlazione con tutti gli altri temi e sono riportate delle schede per approfondire questi argomenti quindi la prima parte c'è così il quadro teorico la seconda parte è importante riporta le correlazioni di questa tematica con il curriculum dell'ordine e grado di scuola di riferimento quindi quali sono le discipline che possono intervenire sulla tutela delle acque e del mare il legame che c'è di questa tematica con il curriculum dell'ordine di scuola di riferimento e le metodologie c'è un passo anche per le metodologie si può ricavare da queste linee guida anche dei principi metodologici beh, la metodologia per l'eccellenza è l'interdisciplinarità cioè tutte le discipline devono trovare uno spazio per poter intervenire voi sapete qual è la mia idea di interdisciplinarità cioè non mettiamo al centro di una circonferenza l'argomento l'acqua tutte le discipline lungo lungo la circonferenza e con un movimento centripeto tutte le discipline vanno a parlare dell'acqua questo è la vecchia il vecchio concetto di interdisciplinarità che portava persino a delle forzature esteriori tutte le discipline devono parlare dell'acqua non ha più senso l'interdisciplinarità che oggi va vista in questo modo al centro di questa circonferenza mettiamo il problema illustriamo il problema e la sostenibilità ambientale ci porta a una serie di problemi mettiamo il problema al centro non il tema, il problema e poi col movimento centrifugo andiamo a prendere e a chiamare in causa quelle discipline che possono portare una risoluzione a questo problema così evitiamo le forzature che si sono realizzate nel passato quando abbiamo cercato appunto la convergenza di tutte le discipline su alcune tematiche non ha senso a volte si generano delle forzature che non hanno nessun risvolto di tipo educativo oltre a questa metodologia per eccellenza ci vengono dette guardate potete utilizzare questi cinque approcci un approccio naturalistico all'ambiente nella scuola primaria in modo particolare un approccio percettivo emotivo un approccio storico evolutivo un approccio sistemico e un approccio antropologico l'approccio naturalistico l'approccio naturalistico è quello di far scoprire il pensiero concreto la dialettica adesso è il concreto di far scoprire cosa c'è quindi analizzare l'ambiente dal punto di vista delle sue componenti biotiche da biotiche lo potete fare degli ambienti intorno alla scuola lo potete fare andando in un parco lo potete fare andando in un giardino e così via in una visita guidata scoprire cosa c'è nell'ambiente far costruire degli schemi per esempio in cui loro riportano se c'è in un piccolo in un parco in una pineta in un bosco far vedere le specie che ricorrono costruire schede di osservazione delle piante ecco schede di osservazione cosa c'è l'approccio naturalistico degli animali, del terreno, delle rocce e così via cosa c'è come è fatto quanti ne sono e così via e l'approccio naturalistico è il primo approccio ed è quello importante anche perché guardate che la percezione dell'ambiente nei nostri bambini spesso è inadeguata e spesso è una percezione globale, sincretica, non analitica e la percezione è la porta della conoscenza se c'è una percezione inadeguata sicuramente il processo conoscitivo che si sviluppa su quel percetto è inadeguata ugualmente quindi la percezione ecco l'approccio naturalistico ho anticipato un pochettino cosa c'è e cosa vedo la percezione emotiva dalla percezione così fisica dalla percezione materiale alla percezione emotiva cioè l'ambiente diventa un campo di esperienza un campo esplorativo un campo percettivo gli alunni con tutti i sensi fate con tutti i sensi far conoscere un ambiente i rumori gli odori il tatto di un tronco di un albero di una roccia di un sasso e così via questo già dalla scuola dell'infanzia l'approccio percettivo emotivo è importantissimo le foglie giochi della percezione giochi ad occhi bendati quindi individuazione di odori di rumori questo si può fare pure dentro l'aula giochi ecco magari voi no ma con i genitori i giochi notturni eccetera insomma l'approccio percettivo emotivo è importantissimo come l'ambiente viene visto attraverso i nostri sensi l'approccio storico evolutivo man mano che saliamo nella scolarità quindi vedere l'ambiente utilizzando il fattore tempo il fattore storico quindi la dimensione sincronica sì oggi ma anche la dimensione diacronica quindi l'ambiente nel tempo come quest'ambiente è cambiato nel tempo ed è importantissimo i materiali per esplorare appunto le trasformazioni dell'ambiente nel tempo le modalità sono diverse le testimonianze storico-artistiche il castello la chiesa i documenti scritti i racconti orali dei testimoni locali come era allora la strada come era non c'era adesso c'è e così via e anche l'analisi delle stagionalità perché le stagioni rappresentano anche il tempo è una diacronia corta la stagionalità però vedere come gli ambienti cambiano a secondo delle stagioni ed è l'approccio storico-evolutivo l'approccio diacronico e l'approccio antropologico cioè l'approccio antropologico man mano è proprio quello cioè le modifiche che l'uomo ha portato in quest'ambiente quindi le tracce ma anche in senso diacronico si può fare quindi dal dolmen al menir ai sassi di materia ai trulli alla capanna in pietra secco che abbiamo noi in Abruzzo per i nostri pastori e così via cioè l'apporto ciò che ha introdotto l'uomo nell'ambiente e anche potete vedere diciamo a livello di produzione di produzione economica agricola non solo diciamo di strutture ambientali ma anche come l'attività dell'uomo è cambiata nello stesso ambiente a prodotto delle modificazioni e per ultimo c'è l'approccio sistemico che a seconda della fascia d'età degli alunni integra io adesso ve li ho illustrati quasi come se fossero distinti invece non è vero spesso stiamo a fare un approccio percettivo e nell'approccio percettivo posso inserire anche quello antropologico cioè guardate che questo l'ha introdotto l'uomo e così via quindi l'approccio sistemico è quando sono più grandicelli e dobbiamo mettere insieme i diversi approcci per guardare l'ambiente sui percorsi di educazione ambientale io vi dicevo in anticipo la scuola ha una bella tradizione si tratta di riprendere queste pratiche di modificarle di integrarle di inserirle in un progetto che abbia maggiore coesione più aderente al tempo forse la stessa cosa va fatta per la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica che forse forse abbiamo trattato in altro modo senza questa definizione però vanno sempre le nostre attività ripensate e riorganizzate partiamo con la definizione per sostenibilità sociale cosa si intende ci si dice la capacità di garantire condizioni di benessere umano sostenibilità sociale ci devono essere delle condizioni per cui l'uomo deve stare bene non deve stare male le condizioni di sicurezza le condizioni di salute l'istruzione la democrazia la giustizia garantire condizioni di benessere all'uomo a noi ma non basta equamente queste condizioni di benessere devono essere equamente distribuite per classi e per genere quindi nella sostenibilità sociale si amplia tutto il discorso della coesione sociale e della pari dignità delle condizioni umane quando crescono le disuguaglianze e si perde la coesione sociale e quindi non c'è più la sostenibilità né sociale né economica né ambientale la sostenibilità sociale quali possono essere gli obiettivi allora sì soddisfare prima cosa le necessità degli individui i diritti umani cioè l'uomo ha fatto un grande cammino nel definire i diritti i diritti dell'infanzia i diritti dell'uomo i diritti eccetera quindi cerchiamo di perché i diritti poi man mano che sono grandi i bambini quarta e quinta il discorso dei diritti significa l'elaborazione di alcune condizioni che possono permettere di star bene dell'uomo nella comunità il diritto è questo quindi prima cercare di soddisfare poi bisogna le azioni che sono utili per assicurare l'equità di genere e di razza cioè che siano equamente distribuiti queste condizioni dello star bene e fra le tante condizioni soddisfare il diritto al lavoro che è uno degli elementi diciamo più drammatici della nostra epoca storica e forse forse perché no sembra una distanza tra il diritto al lavoro ma soprattutto il mantenimento delle tradizioni e dei diritti delle comunità locali perché la coesione sociale la sostenibilità sociale deriva anche da questo dalla conservazione delle comunità locali altrimenti il globale disperde il globale consuma anche quelli che sono le connessioni sociali in un contesto ristretto vabbè lo sappiamo la sostenibilità sociale dove la posso attivare la prima sostenibilità sociale si insegna e si realizza in classe questo è il micro il micro di Juve lo ripeto ancora l'ho già citato vuoi educare alla democrazia fai vivere gli alunni in un contesto democratico John Dewey quindi nella classe identità e diversità nella classe regole di vita di classe perché le regole di vita di classe significa condizioni di benessere per tutti igiene personale sicurezza scuola bullismo cyberbullismo nella primaria non ancora però il bullismo sì ed altro quindi la prima sostenibilità sociale dentro la classe dentro la scuola e la seconda sostenibilità sociale il contesto di vita dell'alunno perché no le regole di vita in famiglia le regole che si devono adottare a tavola le regole nel supermercato le regole nel gioco le regole al cinema in spiaggia nella premessa ne parlerò quando affronteremo cittadinanza e costituzione nella premessa delle indicazioni nazionali del 2012 abbiamo la convivenza democratica un bel paragrafo della premessa dice che noi dobbiamo le regole del vivere e del convivere cioè dobbiamo cercare di illustrare e praticare far praticare le regole del vivere e del convivere il galateo dei bambini per esempio le parole della gentilezza quindi la sostenibilità nel nei contesti di vita noi in quegli opuscoli in quei due volumetti noi cittadini educazione civica per il triennio e per il triennio successivo abbiamo dato molto spazio alle parole della gentilezza la sicurezza in famiglia sulla strada in auto in auto dice ma non guidano in auto la sicurezza in auto il finestrino quello il micro il micro i diritti dell'infanzia eccetera identità e diversità e così via questa è la sostenibilità sociale e ci avete un terreno molto ampio e una tradizione molto ampia però l'importante è dal micro al macro e la sostenibilità economica come può essere definita viene definita la sostenibilità economica la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici quindi la capacità di generare reddito e lavoro ora sostenibilità economica per i bambini della primaria ci sembra difficile ma già nel prossimo incontro quello previsto lo vedete mi sembra il 14 di marzo Piero Carducci ci parlerà di sostenibilità ed economia sono due volumi molto belli e ci renderemo conto come possiamo affrontare questo aspetto con i nostri attraverso questa proposta con i nostri bambini della scuola primaria è evidente che per esempio secondo l'ASVIS l'alleanza per lo sviluppo sostenibile la sostenibilità economica si pone l'obiettivo di sconviggere la povertà beh sulla povertà sconviggere la fame sono degli obiettivi possiamo prendere gli spunti dall'illustrazione di questi obiettivi nell'agenda 2030 assicurare lavoro dignitoso e crescita economica prevedere consumo e produzione responsabile io solo alcuni ne ho presi quelli più evidenti dovremmo pur saper fare delle selezioni sostenibilità economica gli aspetti in una scuola primaria la corretta alimentazione cibi sì e cibi no lo spreco beh fa riflettere molto guardate che lo spreco oggi come oggi è una delle contraddizioni un comportamento impensabile nella nostra società il cibo che si lascia nel piatto ogni giorno è che si butta non solo in famiglia ma anche in tanti altri contesti ed è chiaro che viene da chiedersi porre un interrogativo a loro ma come possiamo mantenere questa terra pulita e bella se la riempiamo di spazzatura lo spreco la consapevolezza di questo comportamento di oggi che è il contrario della parsimonia dei nostri antichi è il contrario persino delle virtù del primo maggio a Teramo in cui la massaia riprendeva tutto ciò che era rimasto appunto nella dispensa e ci faceva un piatto prelibato tutti i rimasugli e tutti i resti quindi lo spreco il risparmio il risparmio che può andare dalla paghetta ma anche dall'insegnare a riparare degli oggetti degli oggetti perché no che usiamo nel laboratorio degli oggetti che usiamo a scuola e di vedere come si può recuperare riparare eccetera e poi c'è da chiedersi perché le scarpe non si portano più dal calzolaio oggi e sicuramente la sostenibilità economica e le quattro R devono essere affrontate cioè la riduzione il riutilizzo il riciclo e il recupero e sono aspetti non sempre vengono affrontati in un modo di stringo in un modo analitico la riduzione significa che dobbiamo ridurre i consumi e evitare le cose che non servono già dalla riduzione dell'acqua l'uso dell'acqua l'uso che facciamo noi e così via la riduzione degli imballaggi con l'eliminazione di quelli superflui e così via siamo chiamati quindi in prima persona a far capire che dovremmo preferire prodotti con imballaggi costituiti da minore materiale andare a fare la spesa con la borsa eccetera non sono talmente diffusi stampare fronte dietro la carta utilizzare la carta stampata e così via quindi la riduzione e vedere concretamente anche a loro e far produrre a loro delle ipotesi di riduzione di riduzione a scuola di riduzione in famiglia loro si devono sforzare di prevedere delle ipotesi piccole risolutive riutilizzo ecco qui nei vostri laboratori il riutilizzo secondo me è fondamentale perché i comportamenti non si predicano e non si pretendono i comportamenti si mutuano si praticano un prodotto già usato può essere riutilizzato senza subire alcune trasformazioni quindi gli oggetti che voi avete dalla scuola dell'infanzia in poi far vedere come un oggetto può essere utilizzato per un altro uso far vedere persino che metà di una bottiglia di plastica tagliata a metà può essere utilizzata per portapenni e così via quindi ecco sono tanti usare un determinato materiale per usi diversi riutilizzo e così via e anche il riutilizzare la carta stampata e stampare dall'altra parte che io faccio sempre il riciclo quando un rifiuto viene trasformato il riciclo per esempio sulla raccolta differenziata ci vuole un'attività molto molto intensa da parte della scuola e far vivere e far vivere questa raccolta differenziata anche nei contesti appunto scolastici il riciclo diciamo ci aiuta ci aiuta a conservare appunto l'ambiente a non deturpare l'ambiente il recupero è ancora più difficile questo concetto però vale la pena pure introdurne quando un oggetto non può essere né riutilizzato né riciclato ma può essere usato appunto per scopi completamente diversi da quelli di partenza poi utile ancora può essere il portale scuola 20-30 l'Italia come tanti altri paesi appunto ha messo ha proposto con insieme all'ASVIS e insieme all'Indire il portale scuola 20-30 cioè degli diciamo degli sviluppi degli itinerari per portare avanti i 17 obiettivi appunto dell'agenda 20-30 questo portale offre a tutti i docenti della scuola italiana contenuti risorse e materiale in autoformazione per un'educazione che sia ispirata ai valori e appunto alla visione dell'agenda 20-30 li conoscete e già scorrendo questi obiettivi sono tutti illustrati già scorrendo questa illustrazione di mezza paginetta voi potete avere degli spunti anche ma lo sapete già per la vostra attività per ultimo vi dicevo che non rifugiamo dalla narrazione cioè non ci facciamo trascinare e a volte esiste ho visto anche delle attività non ci facciamo trascinare dalla tendenza a dire che la nostra attività didattica è di qualità sarà di qualità se ha rigore scientifico ma non è detto noi dobbiamo convincerci che il rigore scientifico non viene meno se i problemi vengono vengono affrontati attraverso le favore attraverso i racconti attraverso eccetera la narrazione il pensiero narrativo ora questo libricino è costruito tradotto questo è stato tradotto dalla LS scuola cioè dalla Lisciani e sono sei racconti e racconti per salvare il pianeta lo dice lo stesso titolo due autori spagnoli ed è stato tradotto ha avuto la concezione e per esempio un primo racconto è diciamo un racconto sul mare di plastica è molto bello questo racconto c'è una balena che vede nel suo ambiente una bottiglia di plastica pensa che sia un animaletto vuole instaurare un colloquio con questo animale ma questo animale è muto e poi si rende conto che questa bottiglia di plastica ha tanti suoi amici appunto che non parlano mai insomma viene affrontato il discorso il racconto è sul mare di plastica questo primo racconto e questo racconto fa capire al bambino più di qualsiasi altra illustrazione diciamo che possa avere un apparato scientifico fa capire al bambino che cosa significa l'inquinamento del mare un messaggio nella bottiglia questa balena mette un messaggio nella bottiglia questo messaggio viene raccolto da un bambino e questo bambino insieme al papà diciamo fa un'esplorazione per andare a vedere che cosa succede insomma la narrazione un secondo racconto importantissimo è la musica nella giungla quindi il racconto sulla deforestazione il terzo un viaggio in canoa e racconta sull'inquinamento dell'acqua il quarto l'ape zunzum il polline arcobaleno quindi il racconto sull'estinzione degli animali importantissimo per esempio far capire ai bambini che cosa significherebbe l'estinzione delle api con l'impollinazione il quinto è la casa dell'orso polare il racconto sul riscaldamento globale e alla fine c'è una lettera che la madre natura scrive ai bambini e alle bambine ma oltre al racconto questo testo è utilissimo ma ne potete trovare anche altri in giro tranquillamente il testo è utile perché perché alla fine di ogni racconto tipo il mare di plastica sintetizza in tre o quattro paginette quali sono le problematiche dell'inquinamento del mare e le sintetizza in diciamo con porzioni di testo che sono adeguate ai bambini della scuola primaria perché io vi dicevo anche che per portare per sviluppare il pensiero sostenibile dobbiamo cercare anche di sviluppare il pensiero analitico cioè di smontare queste problemi ma che non tipo l'inquinamento del mare lo dobbiamo smontare a loro farlo smontare in tanti in tante parti e vedere il legame delle singole parti con il tutto questo si può fare sicuramente con le mappe concettuali io voi lo sapete faccio inserire alla fine di ogni sezione dei libri di sciani che vengono proposti a voi per le adozioni le mappe concettuali semi mute c'è delle mappe ad albero rovesciato in cui vieno vengono in questa mappa vengono racchiusi tutti i nuclei fondanti dell'argomento che è stato affrontato le mappe concettuali ad albero rovesciato oltre a sviluppare il pensiero analitico e sviluppa anche il pensiero induttivo se tu le leggi dal basso verso l'alto ma le mappe concettuali ad albero rovesciato sviluppano anche il pensiero deduttivo allora questa modalità di far smontare il problema in tanti tasselli ma organizzare questi tazzelli secondo un metodo discendente deduttivo e secondo un metodo induttivo è chiaro che aiuta a sviluppare non solo il pensiero analitico ma anche il pensiero astratto perché se lo leggo dal basso verso l'alto vado sempre verso un'astrazione maggiore e vi dicevo non cerchiamo solo la scientificità e non ricerchiamo solo l'abbondanza delle informazioni forse i nostri bambini potranno essere anche disorientati dalla sovrabbondanza delle informazioni ma ecco ricordiamo anche alla narrazione la narrazione voi conoscete l'importanza che io assegno alla narrazione anche e soprattutto quando parlo delle autobiografie cognitive cioè di far raccontare ai bambini il processo che lui ha compiuto nel risolvere quel compito di realtà beh che il pensiero narrativo sia importante lo sappiamo lo sappiamo perché l'umanità ha conosciuto il mondo all'origine attraverso il mito i miti rappresentano l'interpretazione del mondo di coloro che ci hanno preceduto ma anche nella scala ontogenetica l'importanza della fauna l'importanza della fiaba quindi non si comprende il mondo solo col pensiero scientifico e razionale e questo ce l'ha insegnato Brunner noi sappiamo che Brunner dice che ciascuno di noi interpreta il mondo se stesso gli altri costruisce la propria visione del mondo attraverso due pensieri il pensiero razionale paradigmatico verticale quello scientifico e il pensiero sindagmatico orizzontale narrativo cioè la narrazione il racconto e cosa dice lui c'è un libro che non tutti conoscono di Brunner la fabbrica delle storie della la terza di Bari e lui dice che la la storia il racconto il racconto è un elemento fondamentale in tante attività umane il racconto e persino nel tribunale ci vuole la testimonianza che racconti qualcosa ma soprattutto lasciamo stare questa ampia diffusione nel racconto che c'ha nelle attività umane anche noi quando ci incontriamo due persone o quando torno i nostri bambini dalla dalla scuola e chiediamo di raccontare che cosa è successo di raccontare cosa hanno fatto in un giorno di festa però il concetto dell'importanza educativa della narrazione poi se avete visto nell'epoca della pandemia quando abbiamo avuto le scuole chiuse nella prima parte e si trattava di riprendere l'anno scolastico successivo con addirittura l'esigenza di recuperare quei contenuti che i bambini avevano perduto in quell'anno che è stato interrotto con una didattica a distanza poi integrativa eccetera c'era la preoccupazione di dire dobbiamo recuperare i contenuti neosuolti io ho scritto un articolo che ho pubblicato anche su un sito dell'ALS scuola pensieri di scuola quel sito in cui ogni tanto inserisco qualche riflessione e ho detto che bisognava ricominciare dalla narrazione con Brunner c'è più che preoccuparsi di dire non ho svolto questo contenuto adesso lo riprendo e voglio far conoscere ma che senso ha i bambini hanno costruito un loro mondo di emozioni e di conoscenze intorno agli eventi di quei giorni un loro mondo interiore questo mondo interiore può essere anche scomposto può essere nascosto celato e allora ho detto ma più che recuperare un contenuto non ho svolto facciamo narrare raccontare come hanno vissuto questi grandi accadimenti umani che hanno tanto influenza nella loro crescita e chiudo dicendo Brunner ci dice che il pensiero narrativo sintagmatico orizzontale è più potente del pensiero scientifico ma se è più potente allora quanto possiamo tutte queste problematiche affidiamole alla narrazione quanto possiamo e c'è la possibilità perché è più potente del pensiero scientifico e razionale perché lui dice guardate che la narrazione lo porta ha un compimento superiore questo concetto dice la narrazione è quel pensiero capace di dare coesione agli sparsi eventi della nostra esistenza cioè la narrazione dà coesione agli eventi agli eventi della nostra esistenza la nostra esistenza è fatta di tanti eventi e sono sparsi sono sparsi nel tempo e nello spazio e chiude con un concetto molto bello dice la narrazione è diciamo il pensiero capace di dare coesione agli sparsi eventi della nostra esistenza e come chiude per cui ciascuno di noi è la sua storia cioè quando noi diciamo chi sei tu e ti deve rispondere chi sei tu chi sono io ma se vuoi rispondere tu stessa a questa domanda ti devi raccontare descrivere pure ma ti devi raccontare non è sufficiente la descrizione quindi la narrazione il pensiero narrativo è quello capace di dare coesione agli eventi della nostra esistenza per cui ciascuno di noi è la sua storia il racconto di te costituisce la tua identità allora io mi fermo ancora qui se ci sono state se ci sono domande le accolgo volentieri quella parte iniziale mi piace riprendere per dire se trovate dello spazio e troverete sicuramente più di me per svolgere delle attività che possono sviluppare il pensiero sostenibile oltre ai comportamenti sostenibili alcuni spunti nei prossimi incontri noi cercheremo di darli ma mi aspetto che siate voi anche a suggerire anche per quanto siano dei flash che siate voi a suggerire anche e diventerà una raccolta diciamo messa a disposizione di tutti coloro che partecipano a questi incontri a suggerire delle piccole attività didattiche che vanno in quella direzione e vi ringrazio tutti dell'ascolto che mi avete dedicato vi auguro buon lavoro e vi ringrazio